Sì, sì, è concluso. Senta, ci può dare un po' i termini di questo accordo? Un accordo definitivo. Accordo definitivo. Senta, com'è andata la trattativa? È stata veloce, insomma? Sì, 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 è stata veloce. Favorita, immagino, dalla decisione del ragazzo, anche dai buoni rapporti che intercorrono tra lei e il suo omologo bianco-verde? Sì, 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 sì.